Un diportista triestino di 70 anni è stato trovato morto oggi intorno a mezzogiorno nel canale dell'Isert a Monfalcone. L'uomo era scomparso da casa da ieri, si era recato nella città dei cantieri per svolgere lavori di rimessaggio sulla sua imbarcazione ormeggiata in una marina della zona. La moglie ne ha denunciato la scomparsa ieri sera, non ricevendo più notizie del marito da diverse ore. Le ricerche sono scattate poco dopo la mezzanotte e concentrate in particolare nella zona del canale est-ovest all'Isert. Sull'imbarcazione, regolarmente ormeggiata al suo posto, gli operatori hanno trovato il portafogli con i documenti dell'uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Monfalcone e i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo acquatico regionale del comando di Trieste. Hanno scandaliato per ore il canale con il side scan sonar in dotazione all'imbarcazione dei sommozzatori e eseguendo anche alcune immersioni sotto le imbarcazioni. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera. Poco dopo mezzogiorno, infine, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nelle acque dell'Isert e gli operatori hanno avviato le operazioni di recupero. Tra le ipotesi all'origine della tragedia un malore improvviso o una caduta accidentale in acqua.